C'era un clima straordinario, arrivava la musica dei Beatles, arrivavano le immagini dei primi film di Andy Warhol, non sapevamo come si chiamasse, però c'era un'atmosfera straordinaria in quegli anni 60. I riti, i miti della comunicazione di massa negli anni 60 e l'impatto sulla società di quel mondo legato all'arte codificata come pop art sono stati al centro del primo talk proposto a Pistoia, a margine della mostra 60 Pop Art Italia, allestita a Palazzo Bontalenti. A confrontarsi il giornalista e critico televisivo Aldo Grasso in dialogo con il curatore della mostra, Walter Guadagnini, e Monica Predi, direttrice della fondazione Pistoia Musei, che l'ha promossa. Dialogo che ha fatto eco alle opere in mostra, espressione del movimento artistico, che ha guardato anche alla società italiana del tempo, che si apriva ad un mondo nuovo, che aveva nella televisione la principale cassa di risonanza popolare, portando nelle case della gente la musica, i suoi protagonisti, ma anche i prodotti di consumo. Anni raccontati attraverso la lente della pop art nella mostra pistoiese, nelle diverse sfaccettature, dalla musica, al viaggio, alla pubblicità, e che per la televisione ha voluto dire in quegli anni Carosello. Carosello è una sorta di educazione al consumo, perché la gente impara che esistono degli strumenti che fino a quel momento in Italia non c'erano. Il frigorifero, l'aspirapolvere, lavastoviglie, ma anche e soprattutto altri, fa un po' ridere dirlo adesso, ma insomma, in quegli anni ci fu un consumo esponenziale di prodotti dell'igiene personale, ma vado dalla saponetta, lo shampoo, a cose di questo genere. Ecco, la pubblicità è stata proprio, come dire, è stata vitale per la cultura italiana, perché poi si è inserita in quel fenomeno che noi conosciamo sotto il nome del boom economico, e quindi, come dire, la televisione è servita anche un po' all'educazione del consumo.